Ciao, io sono Caria Massimiliano, vivo in Alessandria, ho 58 anni. Ho sempre avuto problemi di dolori, infezioni, continuavo a imbottirmi di antidolorifici e non risolvevo niente. Un giorno, navigando in rete, sono arrivato a conoscere tramite il web il dottor Palmas. In un paese così c'è una clinica così all'avanguardia, così non avevo mai visto una clinica del genere in Italia. In Italia frequentavo dei dentisti con un studio dentistico normale. Con i denti provvisori comunque la mia vita è cambiata perché comunque potevo parlare con la gente, sorridere senza avere vergogna di mostrare la mia bocca. La mia vita è cambiata già dall'inizio. Adesso sono alla fine del mio percorso e devo dire che sono molto soddisfatto. Ho fatto la scelta giusta. Certo, i disagi che avevo erano nel parlare con le persone perché avevo paura di avere l'alito brutto, comunque avevo i denti brutti. Oltre a un discorso di immagine poi c'era anche il discorso della masticazione perché non potevo mangiare quello che volevo, avevo sempre dolori. Nelle feste quando gli altri mangiavano cose, io magari avevo mal di denti e non potevo mangiare nulla. E quindi adesso invece vivo serenamente, sono sicuro che posso fare quello che voglio, posso mangiare quello che voglio. Deve venire qua perché qui ci sono dei professionisti seri, ci sono delle persone che capiscono quali sono le tue esigenze, ti seguono, sono sempre gentili e disponibili. Grazie a tutti.